Ben trovati allo spazio dedicato alle notizie dalle altre province della Toscana. Iniziamo con la cronaca. Sarebbero almeno 12 i cani assaliti dal 2020 nelle campagne di Piombino e a farlo sarebbe stato un individuo di cui gli investigatori ancora non conoscono l'identità. I fatti, secondo quanto ricostruito, si sono svolti a Fiorentina, una frazione di Piombino appunto del provincia di Livorno, in aperta campagna dove i cacciatori sono soliti tenere i box con i loro cani tra una battuta e l'altra di caccia. Dall'autunno 2020, in maniera seriale ogni 4-6 mesi, un individuo era solito aggirarsi nelle campagne e aggredire i cani custoditi nei box. Alcuni hanno subito meno mazioni gravi, mentre altri sono stati addirittura uccisi. La Procura di Livorno ha aperto un'inchiesta per uccisione di animali, in aggiunta una già avviata per maltrattamenti. Le indagini, coordinate dal PM Giuseppe Rizzo, sono affidate ai carabinieri forestali provinciali. Per la difesa, la ragazza non era in uno stato di alterazione tale da non poter esprimere il consenso, come invece sostiene l'accusa e la sua versione presenta diverse discrepanze. Sono i punti centrali dei ricorsi contro le misure degli arresti domiciliari presentati da Federico Apolloni e Mattia Lucarelli, figlio dell'ex attaccante del Livorno, Cristiano, anche loro e entrambi i calciatori 23 anni, arrestati il 20 gennaio per violenza sessuale ai danni di una 22enne americana. Presunto stupro di gruppo che risale alla notte tra il 26 e il 27 marzo dell'anno scorso e per il quale altri tre loro amici sono indagati. Il ricorso di Apolloni è stato discusso stamani per quasi un'ora e mezzo davanti al Tribunale del Riesame di Milano, che lunedì prossimo tratterà in un'altra udienza anche quello di Lucarelli, sempre difeso dal legale Leonardo Cammarata. Entro lunedì dovrà arrivare la decisione per entrambi sulla richiesta di revoca dei domiciliari a cui la PM Alessia Menegazzo si è opposta intervenendo in aula. Cambiamo argomento al cinema. La Compagnia di Firenze, la Toscana, ha celebrato il giorno del ricordo con studentesse e studenti per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe dell'esodo forzato dalle loro terre nel secondo dopoguerra. Il Presidente Ciampi con legge volle fissare il 10 di febbraio, il giorno della firma di un trattato di pace rilevante per disciplinare quei territori del nord-est italiano, il giorno per avere ognuno di noi presente il dramma di migliaia di persone, 5.000 quelli accertati, ma probabilmente 10 o anche 20.000, che furono gettati in modo incolpevole nelle foibe con la caratteristica semplice e tecnica di essere italiani senza nessuna ulteriore responsabilità. Il dramma delle foibe ci porta alla mente a quanto ha generato la seconda guerra mondiale, il fatto che arrivati con una dittatura in rapporto, in alleanza con Hitler, il popolo italiano non ha poi sofferto le conseguenze. Proprio sul confine orientale del nord-est d'Italia noi abbiamo vissuto per anni successivamente, alla fine della seconda guerra mondiale, la necessità di arrivare alla pace con una disciplina progressiva che ha perso territori come l'Istria, come il fiume, come la Dalmazia, di chiara ispirazione di insediamento italiano. Polemica dichiarazione di Ilaria Cucchi, senatrice dell'alleanza Sinistra Verdi, che ha effettuato oggi un'ispezione durata oltre due ore all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa. In questo carcere non ci sono le telecamere, ha dichiarato Ilaria Cucchi, e io questo lo trovo estremamente grave, quindi su questo vorrò andare fino in fondo. Qui, come in tutti gli altri istituti di pena, devono esserci le telecamere, oltre che le condizioni per consentire alle persone recluse una vita dignitosa. Il Tribunale di Pistoia ha accolto la richiesta di concordato preventivo per la società terme di Montecatini, proprietaria del patrimonio immobiliare termale della città del Pistoiese. Il decreto è stato adottato ieri, soddisfazione da parte del socio di maggioranza di terme di Montecatini, che è la Regione Toscana. Non possiamo che accogliere con favore speranza, affermano il Presidente Gianni e l'assessore Cioffo. La notizia è giunta dal Tribunale di Pistoia in merito all'apertura della procedura concordataria. Nelle prossime settimane il commissario giudiziale comunicherà ai creditori la proposta della società termale. Nel frattempo si mantiene alta l'attenzione nei confronti della legge recentemente approvata, che definirà la valorizzazione di una parte degli immobili della città patrimonio dell'UNESCO. È tutto per le notizie dalla Toscana. Adesso un breve stacco pubblicitario e subito dopo il Tg della provincia di Lucca. Grazie per la visione!